benvenuti tutti qui by con i tv trento io sono fabrizio oggi trasmettiamo dal skyline della città di trento e ci troviamo in compagnia di maria chiara che ci farà ascoltare il suo brano buon ascolto 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 me stessa perché mi devo ancora esplorare devo capire quali sono le definizioni per questo momento sto con una loop station molto bene allora vi lasciamo noi ti ringraziamo insomma grazie a voi di essere venuta a trovare ti lasciamo appunto con la tua loop station nel frattempo noi ringraziamo Rifugio Bindesi che ci ospita a PPM che ci permette di portare avanti i Balconi TV a Trento e noi noi ti salutiamo con il nostro consueto e amatissimo stay with us